Per Rotta quanta sfortuna? Sì, tanta, era una partita da vincere, però siamo contenti della prestazione, dobbiamo continuare su questa strada perché prima o poi i risultati arriveranno. Siamo tranquilli perché ognuno è con la coscienza pulita, sapendo di aver fatto il proprio lavoro, quello che ci ha chiesto il mister, quindi dobbiamo solo aspettare con tranquillità che la ruota gira dalla nostra parte e dobbiamo continuare così. Abbiamo avuto molte occasioni, eravamo padroni del campo, volevo fare anche i complimenti al Pisa perché comunque è stata, secondo me, finora la miglior squadra, allenata da un ottimo mister e quindi faccio i complimenti a loro anche se potevamo vincerlo. Un mancato stop di Ciani ha tagliato fuori un po' tutta la difesa lì sul gol di Verne. Sì, veramente l'ha toccata con la punta, stiamo tutti aggredendo la palla, non ci aspettiamo che la toccasse e abbiamo preso gol. Dobbiamo lavorare su questi errori perché dobbiamo prendere il meno gol possibile perché a fine camionato questi gol possono fare la differenza. Un termine che finora però ha raccolto meno rispetto a quanto ha fatto. Sì, ha raccolto meno però le prestazioni ci sono, quindi come ripeto dobbiamo stare tranquilli. Noi sappiamo il nostro valore, dobbiamo solo venire fuori e far vincere qualche partita per rimetterci in carreggiata. Per noi il campionato è iniziato oggi perché eravamo a zero, oggi siamo a uno, quindi dobbiamo stare tranquilli. Mancano ancora 35 partite, quindi va bene. Mi sembra che la tenuta atletica della squadra sia stata ottima. Sì, il prof ci tiene molto aggiornati e ci fa correre molto, perché noi dobbiamo sicuramente correre il doppio degli avversari. Noi dobbiamo mangiarceli in campo, dobbiamo essere padroni del nostro campo perché quando giocano in casa non ce n'è per nessuno. Noi dobbiamo vincere tutte le partite e dobbiamo far vedere chi siamo perché noi abbiamo vinto un camminato e quindi non dobbiamo perdere mai l'onore. Noi dobbiamo vincere.